vuoi sapere che succede? tu non mi hai dato manco una fracolina a me oddio Marco! vuoi sapere che succede qui a quel tempo? per la prima volta a Brano e tu stai provando la risposta si la risposta si la risposta si la balla non è ancora in gioco, non valgono negli anni ma le chiacchiene va? no, no, non lo fai togliete le chiacchiere a Francesco a fine, vai Francesco, martellini no, ma bello dei suoi eh, buttate un po' di dolce qua non va non la mangiare non c'è la colonna al cioccolato la donna al cioccolato non c'è la presa Grazie. Grazie. Grazie.